Il Vali di Avra è uno dei vali più belli dello stato di Sicif, nascito nelle montagne di Babor, nello stato centrionale di Sicif. La sua posizione tra l'abbraccio delle montagne di Babor gli dava uno spettone bellezza. Ma purtroppo non c'è attenzione a queste montagne, ma all'interno distritto di Babor. Dalle autorità interessati, può rifornire i villaggi e tutti i comuni di mitrofia, compresi i terreni agricoli. Il piuttosto lungo è per il rinimente coccionante grazie alla pioggia monsonica e al clima del comune di Babor, caratterizzato da estremo freddo e pioggia abbandonantica. Il Vali di Avra è tra i più belli valli che servono economicamente al distritto di Babor.